Ciao guys, oggi giro in convento con le sisters! Se vi è piaciuta l'ostia, io vi lascio la ricetta. Ah, e non si attacca al palato. Alleluia, 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 alleluia! Ti ringrazio, mio signore! La sentite? È un pezzaccio! No, allora, la questione è che se io prego per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle. Oh my god. Io sono Giorgia, sono una suora, sono una sorella e sono Cristiana.